Buon pomeriggio cari amici di Bassano Generation, come tutti lunedì siamo in onda dalle 15.50 alle 17.20 sulle frequenze di radio cooperativa che sono in 92.7 FM. Sono Carlotta, con me in regia c'è Mauro e abbiamo un ospite che ci ha portato a partire da High and Dry del Radiohead una sua playlist ed è qui per raccontarci la sua attività e un sacco di cose che sono sicura vi interesseranno moltissimo. Anna Turchato, consulente d'immagine, un lavoro che si è praticamente inventata lei. Ciao Anna. Ciao, ciao. In realtà questo lavoro nasce dagli anni 80 ma adesso ne parliamo. Io sono Anna, saluto tutti. e faccio sì a consulente d'immagine. Cosa vuol dire? Vuol dire che aiuto le persone a raccontarsi e a comunicarsi attraverso la propria immagine e il proprio stile, valorizzando certo la bellezza ma anche spiegando proprio la personalità. Ma effettivamente è una cosa che molte persone potrebbero fraintendere. Tu punti molto sul racconto della persona, quindi se io vengo da te con un problema diciamo Anna, Anna, devo assolutamente trovare un outfit per questa situazione. Tu non mi dai un modello preimpostato che proponi a tutti ma studi la persona che hai davanti ed è una cosa bellissima. Esattamente, è proprio l'evoluzione del consulente d'immagine che come dicevo prima nasce negli anni 80 con quel concetto di dress for success, degli yuppies che dovevano avere la giacca Barbary per essere dei figli della Madonna. Invece il racconto del consulente d'immagine sta cambiando e io mi sto impegnando proprio nel mio piccolo, nella mia comunicazione a spiegare che si deve unificare la bellezza con la personalità e anche la questione dell'appuntamento che tu hai va comunque calmierato sulla base di quelle che sono le tue caratteristiche personali per sentirti a tuo agio nella situazione importante che ti aspetta. Effettivamente, se a me proponessero ad esempio dei tacchi per una qualsivoglia occasione farei una figura barbina perché non ci so camminare, la prima cosa che la gente vedrebbe di me sarebbe una specie di giraffa che barcolla e probabilmente inciampa e rovina rovinosamente a terra. Allora, ci ascoltiamo la tua seconda canzone, la seconda canzone che ci hai portato? Sì, mentre ti insegno a portare avanti il bacino per stare sui tacchi, in realtà scherzo ovviamente. Ma lo faremo veramente, non vi preoccupate, probabilmente Mauro ci filmerà, spero tanto di no. No, Mauro prova anche lui, sai Mauro però secondo me è più bravo di testare sui tacchi. Ah, ci scommetto, farmo una gara di corsa sui tacchi io e Mauro. Sintonizzatevi sulle frequenze di Bassano Generation non appena daremo l'annuncio. Intanto, Samuele Bersani con Giudizioni Versali. Canzone meravigliosa, non la sentivo da tantissimo. Grazie Anna per la tua playlist di oggi perché mi fai veramente rivivere un po' la mia adolescenza, un po' anche la mia quotidianità perché sono comunque canzoni che ascolto sempre. Ok, facciamo jacuzzi, siamo vecchie! Siamo vecchissime! Però Giudizioni Versali contiene un verso che ha molto a che fare con il tuo lavoro, non l'hai scelta a caso, giusto? Sì, in realtà è proprio un omaggio, io sono del 1980 quindi alla fine Samuele Bersani ce lo siamo guardate tutte, adolescenti a quell'epoca. Però mi piace in particolar modo il verso sei solo la copia di mille riassunti. Molto spesso l'esiderio nostro è di omologarci con la nostra immagine e di diventare la copia di mille riassunti. Invece quello che si potrebbe fare, ci vuole un po' più di coraggio, però il risultato è davvero divertente e anche efficace, è quello di creare la nostra personale versione appunto della bellezza e il nostro personale stile. È molto importante, infatti io sono sempre stata una sostenitrice del non omologarsi, del non fare come tutti gli altri. Recentemente sono capitata in stazione all'orario di uscita dalle scuole. Ma qui a Bassano? No, non a Bassano, ero a Venezia. No, non a Venezia, stavo tornando da Venezia e non mi ricordo più in che stazione, ho cambiato treno e c'erano tutti questi ragazzini, non si distinguevano l'uno dall'altro. Oltre ad avere le caviglie esposte con meno 10 gradi. Ed essere vestiti anni 90 perché io insegno ai ragazzi di 20 anni e sono tutti vestiti come me a 20 anni ed è molto interessante. È molto interessante, fa un po' paura effettivamente. Tu insegni anche oltre a fare la consulente di immagine? Sì, 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 sì. Insegno storia della moda all'OIED, l'Istituto Europeo di Design ormai da 4 anni e poi insegno anche all'Accademia di Moda di Verona da un paio d'anni. E i ragazzi sono veramente una risorsa perché se noi a volte ci sentiamo un po' abbattuti e pensiamo che non possiamo cambiare e in realtà la chance di modificare il nostro racconto per immagini c'è sempre, i ragazzi hanno la possibilità di ragionare sulla consapevolezza fin da quando possono sperimentare e divertirsi magari senza l'occasione d'uso che ti fa un po' riflettere sul fatto di sentirsi più o meno estroso. Effettivamente poi credo sia anche una risorsa per te, nel senso noi abbiamo appena detto siamo vecchie e una volta che invecchi fai un po' più fatica a comprendere quello che succede nei giovani, anche se ti senti ancora giovane dentro, quindi tu essendo a contatto con loro quasi quotidianamente hai una grandissima finestra aperta su quello che sta succedendo nel mondo. Sì, 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 ci sono dei periodi e poi ovviamente insegno per alcuni semestri perché se no non riuscirei a farcela durante l'anno, però ci sono dei periodi in cui ci contaminiamo a vicenda. Adesso, per esempio, venendo qui stavo leggendo dei loro elaborati, ci sono gli esami in questo periodo ed è molto interessante il loro punto di vista sulla moda. Io dicevo insegno da una parte la storia della moda, dall'altra iconologia e iconografia, quindi io gli presento magari figure che per loro sono lontane, anche se dicevamo gli anni 90 sono vintage per loro, che però riescono a reinterpretare in un modo davvero interessante, sì, che ti aiuta a comprendere come sta andando il mondo. Fantastico, e ad esempio, non lo so, come potrebbe reinterpretare un ragazzo di oggi il punk? Ah, il punk in realtà, che so che tu ami perché sei fan della nostra amica Vivian Westwood che insieme a Malcolm McLaren il punk creò, fu un modo di relazionarsi con quello che c'era stato, che adesso i ragazzi fanno fatica a comprendere, perché il punk voleva sì scioccare e fare qualcosa di diverso, ma appunto per creare in realtà qualcosa di nuovo, scioccare per trasformare. Quello che i nostri ragazzi giovani, insomma, adesso sembro veramente una vecchia di 90 anni, ne ho 39, fanno fatica a fare, è proprio questa cosa di trovare un'opportunità nuova. Loro sono un po' senza memoria, sono un po' senza futuro, ed è molto interessante dargli una visione nuova proprio per fargli capire che questo futuro c'è. Effettivamente, hai veramente ragione. Io in realtà ti ho fatto la domanda sul punk, anche per introdurre il prossimo brano. Ah! Perché andiamo ad ascoltarci il London Calling dei Clash, che tra l'altro tu ti ascoltavi durante un viaggio a Londra. Sì, proprio nei miei 18 anni, io sono nata a dicembre, ero nata nell'estate, quindi 17 in realtà, quasi 18, con la mia amica Silvia, siamo andate all'avventura un mese a Londra, e alla sera con le ragazze di Londra che non indossavano, come sapete, le calze, perché gli inglesi non mettono mai le calze, ballavamo con le borse al centro della pista a questa canzone. Clash con London Calling, sono sempre Carlotta, sulle frequenze di Radio Cooperativa 92.7 FM all'interno di Bassano Generation. Cara Anna, io sono molto curiosa di sapere che cosa possiamo fare noi comuni mortali sotto la tua guida con i colori. Ah, anche senza la mia guida. Allora, molto spesso la tendenza è quella di vestirsi di nero, specialmente noi donne, perché siamo un po' ossessionate dal fatto che difficilmente ci piacciamo. Io per prima, però non è necessariamente vero che il nero sia il colore top per sfinare. Beh, ad esempio mia madre interverrebbe e ti direbbe, ma c'è anche il blu. Chiaro, ma ha ragione la signora, in realtà appunto non è il nero, ma è il colore unico che sfina, quindi se io mi vesto anche tutta di verde, comunque insomma il mio fisico risulta valorizzato. Ma oltre ad andare sul tecnico, una delle cose che io dico sempre è che il nero è l'assenza di ogni colore, quindi ti obbliga, diciamo, a parlare, perché quando le persone ci incontrano, nei primi 60 secondi, si formano un'idea inconscia di noi, se la formano da quello che vedono, dall'immagine, e molto spesso se la formano proprio dei colori che noi portiamo. E se noi portiamo il nero, non diciamo niente, quindi dobbiamo parlare. Io sono molto timida, per esempio, tu lo sai. Sì, va bene, ci conosciamo da molto tempo, poi vi raccontiamo anche come. Però, appunto, i colori accesi mi piacciono, proprio perché mi consentono di dire qualcosa prima di doverlo fare a parole, e quindi la mia immagine arriva, parla, e poi io posso, appunto, cominciare a confermare con calma quello che la mia immagine ha già raccontato di me. Per esempio, tu che sei una persona molto creativa, dovresti indossare il giallo, perché chi indossa il giallo racconta che le sue idee sono sempre innovative, che riesce a fare sempre quel guizzo che aiuta se stesso e gli altri a trovare la, non so, la spiegazione, piuttosto che la creazione fuori dagli schemi. Sai che? Scusate, effettivamente io ho cambiato occhiali di recente e ho scelto un modello con montatura nera a scapito di un modello con montatura gialla. Ah! Perché temevo che il giallo mi avrebbe stancato, ma la mia domanda a questo punto sarebbe, ma Anna, ma se il giallo mi sbatte, come posso fare? Non c'è un colore sbagliato, ma c'è la sfumatura meno donante. Però, voglio un attimo andare sul nero, poi riapprofondiamo il discorso colori, i tuoi occhiali neri, posso capire la tua scelta, l'occhiale ovviamente è anche un investimento economico non da poco, quindi ovviamente la tua scelta è stata condizionata anche da questo. Però ricordiamoci che farlo perché noi abbiamo paura di comunicare qualcosa di noi, di scegliere il nero, non è mai la scelta appunto giusta, non è mai l'opzione giusta. E in più volevo dire una cosa a cui tengo moltissimo, cioè che colore batte forma, a proposito del discorso che ho fatto prima. Quindi tua madre, col suo blu, ci racconta che è una donna molto equilibrata, che tiene i piedi per terra, in una stanza blu le nostre pulsazioni si fermano, vanno più tranquille, noi ci sentiamo più tranquilli, equilibrati, concentrati. Quindi tua madre porta tutte queste belle sensazioni. In realtà, quando l'occasione, guarda, tanto ci starà sicuramente ascoltando. Mamma, non mettere i piedi per terra, perché adesso è stata da poco operata all'anca e non può mettere i piedi per terra. Quindi mamma... Ma indossando il blu, anche se non li potrà mettere per la sua recente infortunio, per cui le facciamo i migliori auguri, lei comunque comunicherà questa cosa, a prescindere dalle sue forme, colore, batte, forma. Se io comunico con i colori che indosso, quello che sono, nessuno noterà se leggermente il vestito mi tira un po' sui fianchi. E questa è una liberazione per noi donne, e voglio dirlo. È veramente una cosa incredibile. Anche per lei, signora! Mamma, capisci, capisci. Adesso lei prenderà questa come scusa per vestirsi di blu forever and ever e non provare più nessun altro colore. Se lei se lo sente, indossi blu con l'arancione, che sono colori complementari. E lei tira, no, ma come? No, sto scherzando. Comunque a proposito di arancione, devo dire che ho seguito il tuo consiglio, non molto tempo fa e non te l'avevo detto, perché mi ricordavo che avevi detto che anche l'arancione è un colore che comunica molto la creatività. Sì, l'energia e l'accoglienza soprattutto. Anche. E sono andata, ho scelto l'arancione per un colloquio con un mio potenziale cliente, ed è l'affare andato in porto. Ah, posso solo sapere di che categoria merceologica si tratta? Un po' un misto in realtà, quindi non era moda comunque. Eh, infatti, lei, appunto noi stiamo giocando in casa perché ci conosciamo. Carlotta molto spesso ha a che fare anche con delle aziende che si occupano di benessere. E glielo chiedevo perché arancione per l'accoglienza, l'energia, il far star bene gli altri è perfetto, è anche il verde che appunto porta benessere. Quindi questi due colori poteva essere che la persona che ti ha fatto l'intervista fosse inconsciamente attratto? Sì, beh, effettivamente ho fatto bene perché la persona con cui ho parlato era una persona che ha molto bisogno di essere rassicurata. Ecco. Guardate, usate l'arancione se avete a che fare con persone timide e insicure, anche per lo psicologo, per esempio, perché saranno attratte da voi. Fantastico. Gli arancioni erano i capelli di David Bowie che ci guarda, tra l'altro, all'interno del nostro studio. Avrete sicuramente visto il fantastico quadro regalatoci da Fabri Ray qualche tempo fa. A proposito di Vivian Westwood, prima di far partire David, ti voglio dire che guarda che Vivian si è ispirata al look di David. Proprio questo, eh. Ma l'ha detto, l'ha scritto, eh. Tu hai letto, hai comprato un fantastico libro sullo studio di Vivian Westwood. Ne parleremo davanti all'aperitivo, in realtà. Adesso ci ascoltiamo David Bowie con Space Oddity. David Bowie con Space Oddity e David Bowie è stato una grandissima icona nella storia della moda, questo lo sappiamo bene tutti, però c'è un fattore di grandissima importanza. Lui ha riportato il colore nel mondo dell'uomo. Sì, in generale negli anni Sessanta si è invertita un po' la tendenza dalla metà del 1800, quando grazie ai dendi, che erroneamente vengono considerati solo uomini blasé, ma in realtà all'inizio erano proprio coloro che erano contrari a quello che c'era prima, e cioè il Settecento con i colori sgargianti e gli uomini che si vestivano come le donne a fantasia, a fiori, non ovviamente nelle forme ma nei colori. E questa grande rinuncia nella metà del 1800 ha fatto sì che gli uomini rinunciassero alla moda, perché era una cosa futile, che si poteva prendere la donna in mano, e questi uomini rinunciassero così anche al colore. E sono negli anni Sessanta, osservando personaggi provenienti dallo spazio come David Bowie, un po' l'immaginario è cambiato e gli uomini possono indossare di nuovi colori, come il nostro Mauro, che voi non vedete, ma oggi ha una bellissima camicia gialla. Te piacerebbe, eh? Beh, devi sapere Anna che il nostro colore, il colore della nostra associazione è proprio il giallo, abbiamo fatto le magliette gialle per un evento che è andato molto molto bene, e anche, insomma, stiamo usando il giallo anche per altre strategie di comunicazione. Infatti è per questo che Mauro, che è un brand man, corporate man, ha il giallo. Giusto, beh, dovresti proprio provare Mauro, sono sicura che potresti scoprire delle novità. Quindi, caro David Bowie, grazie per aver riportato il colore nel mondo degli uomini, anche perché, insomma, l'uomo in primis è uno che teme di osare con il colore, giusto? Sì, in realtà, fare la consulente d'immagine all'uomo e alla donna è veramente un mestiere molto diverso, perché in verità devo dirti che è molto più facile consigliare l'uomo. È molto più facile consigliare l'uomo. Sì, perché se io prendo Mauro, che non si è mai sentito chiamato in causa oggi, e gli dico che, appunto, dopo aver analizzato la sua personalità, aver capito le sue esigenze, le sue quotidianità e averlo guardato, e gli dico che, di consiglio, certi colori, certi look, creiamo insieme degli abbinamenti, di forme e colori, lui va dritto per dritto perché si sente un figlio dalla Madonna e va. Invece, le ragazze, alla mattina si possono svegliare le donne, le ragazze si svegliono la mattina, magari c'è quel giorno che ti senti più gonfia perché ti devono arrivare, c'è quell'altro giorno che piove, i capelli ti stanno malissimo e quindi potresti metterti anche l'abito della regina Elisabetta, è un'altra che ama i colori, e non ti sentiresti bene. Quindi, per le donne è molto più difficile, ma più stimolante dal mio punto di vista, e il tema della clemenza e della consapevolezza per la donna è molto più importante, perché davvero l'uomo ha la regola e quando ha la regola va, senza voler sminuire. L'uomo è un po' più, diciamo che si fa meno sopraffare dall'emotività. Beh, effettivamente noi donne, io in primi so la giornata in cui magari mi sveglio e perdo un'ora perché non so che cosa mettermi, poi magari il giorno dopo mi guardo allo specchio e dico, sai che c'è? Io oggi non mi trucco perché sono bella allo stesso. A questo proposito vi do un piccolo trucchetto per piacervi quando vi fate le foto. Allora, se voi vi fate una foto adesso, vi fate un selfie adesso, non vi piacerete mai. Non guardatelo subito, guardatelo dopo un giorno o due, perché succederà come quando vedete le foto di qualche anno fa, in cui vi sembravate delle bellissime ragazze, invece quando vi siete scattate le foto non vi piacevate. Non è che a distanza di due o tre anni siete passate da Maria Angela Fantozzi a Heidi Klum o viceversa. Semplicemente bisogna livellare quella forbice della percezione che fa sì che appena noi vediamo la foto non ci piacciamo. Quindi cominciare a guardarsi con gli occhi di un altro e cominciare a guardarsi appunto a distanza un pochettino. Il tempo porta a clemenza, effettivamente nessuno riguarda le foto vecchie con vergogna, con orrore. Si guardano sempre con un po' di tenerezza anche quando si è effettivamente venuti male, giusto? Esattamente, proprio quel termine della clemenza che è molto importante da affrontare anche io ai miei corsi che faccio proprio per trovare il proprio stile, comunicarsi con moda immagine, una delle prime cose da cui partiamo con le mie corsiste è il tema della clemenza. Donne, vogliatevi bene perché il corpo che avete è l'unico che avrete in tutta la vita e vi sta portando appunto avanti nella vostra quotidianità, quindi amiamolo. E magari, non si sa mai, potreste finire come la regina Elisabetta a campare veramente cent'anni. Tu ci hai portato tra l'altro un sacco di sudditi di sua maestà nella tua playlist musicale di oggi. E beh, adesso ci ascoltiamo alla prossima canzone e poi magari parliamo proprio della regina Elisabetta. Sì, è una delle mie icone di stile. Anche la mia. Quindi direi che ci possiamo ascoltare una band che siamo andate anche a sentire insieme, i Pulp, con Disco 2000. Icone di stile a go-go perché è anche Gervis Coker dei Pulp, ve l'ho già detto in più occasioni, che è una divinità nel mio piccolo microcosmo. Con Anna Turchato, consulente di immagine. E gruppi insieme a Carlotta a un concetto dei Pulp, io e lei sotto il palco, shameless. Dovevate vederci, dovevate vederci. Gervis! I love you! Bando le ciance, stiamo parlando a proposito appunto di icone di stile della regina Elisabetta. Sì, in realtà lei ha questi colori così sgargianti anche per un motivo, diciamo così, di sicurezza. Perché la regina appunto si veste con colori accesi in modo tale che scoppia una bomba, succede un tafferuglio. Dov'è la regina? Dov'è la regina? È quel puntino giallo evidenziatore, verde evidenziatore. Ed è lei. È molto pratico effettivamente, però lei è anche una che usa molto il suo abbigliamento, i suoi accessori per comunicare nel piccolo e anche nel generale. Penso alla borsa, alla posizione della borsa. Sì, Margaret Thatcher era una che usava la borsa molto per comunicare, parlando di inglese. Quando lei arrivava ad un evento, partiva quando aveva posato la borsa sul tavolo e se per lei l'appuntamento era finito, portava via la borsa dal tavolo. In modo da far capire che ciao belli, io me ne vado. E anche la regina fa questo. Quando Trump era andato a trovarla, aveva usato una spilla di valore inferiore rispetto alla spilla che aveva indossato quando Obama era andata a trovarla, raccontando con questo piccolo dettaglio un leggero parere magari che lei arriva. Che non può poi esporsi, no? E poi da giovane invece aveva una passione per lettiare e ancora adesso è una delle cose con cui si diletta di più a giocare, a sperimentare sempre ovviamente nel dress code reginesco. Se non erro è anche tradizione che le spose, le giovani spose della famiglia reale prendano in prestito una tiara della regina, giusto? Esattamente, esattamente. E poi vi racconto una cosa su Baby George, sai che c'è quella pagina su Facebook, Baby George ti disprezza. Oh sì, bellissima. Non so se avete notato che Baby George ha sempre i pantaloncini corti, estate e inverno. E il motivo sta nel fatto che appunto lui sarà re e per la monarchia inglese i monarchi piuttosto che i vari reali pretend to be, diciamo, non possono indossare i pantaloni lunghi fino all'età dei sette anni. Quindi George crepa di freddo fino ai sette anni perché sarà re. Beato lui, è una sofferenza alla quale mi sottoporrei. Ah sì, ha velleità da queen. Ho velleità monarchiche, sì sì, assolutamente. Sono la regina con due G. Beh, andiamo avanti con il nostro excursus sui sudditi musicali di sua maestà? Sì, se vuoi. Ah ok, sono già partiti. Beh, diciamo che ci possiamo anche ballare un attimo sopra, tu sei anche stata al loro concerto recentemente. Sì 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 sì, un concerto bellissimo, ovviamente il pubblico era sempre over qualcosa, però molto affascinante. Ecco, anche lui è uno dei miei, delle mie icone diciamo di stile maschili, che chiamavano le di stile, che mi piacevano da ragazzina. Dave Gunn. Tanta roba Dave Gunn. Enjoy the silence, the fashion mode. Stavamo commentando la volontà di Dave Gunn di farsi notare tramite la nudità. L'abbigliamento e il non abbigliamento. Dave Gunn ha la divisa, che sono i pantaloni in pelle e petto nudo. Però insomma, se ne ho 40 io, quanti ne ha Dave Gunn? Se a 60 anni ancora stai a petto nudo, bello tranquillo, vai caro! L'importante appunto è essere sicuri di sé. Effettivamente, allora Anna, noi parlavamo prima del tuo corso. Sì 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 sì, io ormai da 5 o 6 anni, se perdo il conto, tengo un corso appunto per aiutare le persone, le donne nella fattispecie, a trovare il proprio stile e comunicarsi con stile e immagine e lo porto in tutta Italia. Adesso noi qui siamo in Veneto, quindi io gioco in casa e c'è la tappa di Venezia, ma io vado a Roma, Milano, Torino, Bologna eccetera e alterno questo alle consulenze. Quindi mi piacciono proprio le occasioni di aula perché, proprio come dicevamo prima, le donne sono tutte accomunate dal fatto che spesso non si piacciono e trovarsi nella stessa occasione e darsi manforte nel valorizzarsi aiuta molto. E poi durante i corsi facciamo una cosa speciale. Cosa facciamo? Tu l'hai fatta. Io l'ho fatta. Io faccio finta di essere curiosa e in realtà il corso l'ho fatto. Lei ha fatto come appunto le mie corsiste e anche le mie clienti durante la consulenza la prova di introspezione cromatica. Perché si può spiegare in radio, è una cosa un po' pratica però semplice a spiegarsi. solo cosa facciamo. In realtà appoggio dei drappi colorati vicino al volto della persona incriminata e capiamo quali sono le sommature che più valorizzano il suo incarnato ma anche la sua personalità. dicevamo prima non c'è un colore sbagliato quindi il giallo mi sbatte non esiste. Non ti sarà meno donante magari il giallo ocra però il giallo limone ti starà benissimo. E lo scopriamo attraverso questa prova. Adesso Carlotta da quando l'ha fatta vedete non ha più vestiti neri. Effettivamente oggi no, oggi sono in nero. Perché oggi è in nero, l'ha fatto per provocarmi. No l'ho fatto in realtà perché qua dentro fa molto freddo e ho indossato il vestito più caldo che possiedo che è fatta lì. Guarda colore batte forma ma comodità per me batte tutto. Quindi vai col maglione nero. Parli con Miss Tutta. A proposito di tuta c'è una signora che dice che se indossi la tuta allora diventi una tuta a cui la tuta si adatta, si addice. E che è Mary Kondo a proposito di stile. Mary Kondo non so se la conoscete ha scritto il magico potere del riordino no? Si chiama così il libro? Si si chiama così io non l'ho letto però devo dire che il mio gentil consorte a casa non solo ha letto il libro ma si è guardato anche tutta la serie e poi ha messo in pratica i consigli di Mary Kondo. Tu non sei d'accordo su tutto? Allora sono d'accordo sul fatto che lei in realtà fa un lavoro che è il magico potere del riordino significa che butta via tutto quindi sarebbe benissimo a farlo in tuta ma per il suo racconto che è un racconto molto zen in cui lei entra nelle case delle persone con la stessa filosofia proprio di amore per la casa così come lei entrerebbe in un tempio buddista va benissimo che lo faccia con un abitino in lino e non con la tuta. Ho detto questo quando comincio a dire nel libro e anche nella serie che partiamo a eliminare dei vestiti che sono la categoria merceologica su cui le persone hanno meno affiliazione emotiva. Per me è un colpo questo sì te lo devo dire. Effettivamente anche io non sono completamente d'accordo. a me è successo ancora molti anni fa, te lo raccontavo prima, di aprire l'armadio per fare un po' di ordine e trovarmi a fare un repulisti dicendo accidenti però non posso avere dentro il mio armadio tutta questa roba che non mi piace. Io da oggi in poi butto via quello che non mi piace e inizio a comprare solo vestiti che mi danno, mi fanno felice effettivamente, mi danno un'emozione, mi fanno dire guarda quanto sto bene in modo da non poter sbagliare più un look. Guarda hai proprio ragione, vestirsi è un progetto di felicità e la tua idea è proprio corretta però nel rapporto di Mary Kondo c'è più la volontà di eliminare che quella di costruire. Anche in alcune puntate una signora era felice dei suoi abiti e lei comunque gliel'ha eliminata, già viene sordiciata e è morta là. In quello che dici tu è corretto, là però ci vuole molta consapevolezza e quindi torniamo alla regina, più dal più tempo ti conosci, più consapevolezza e quindi anche con l'avanzare dell'età si guadagna in consapevolezza. Quindi a tutte le sedicenni in ascolto non vi preoccupate se nel vostro armadio trovate dei capi sbagliati e sono errori che vanno fatti. Esatto, non sono sbagliati ma sono dei capi che non vi corrispondono in pieno ma vi state conoscendo, quindi osate ragazze e divertitevi. Sperimentate, se vedete che proprio non ci state bene, non vi piacete buttate via come fa Mary Kondo ma non buttate via tutto in modo indistinto anche se devo dire che la sua tecnica di piegatura ad esempio per il cassetto dei pigiami, delle magliette mi ha un po' salvato la vita io che non ho molto spazio in casa. Benissimo, allora ringraziamo Mary. Ciao Mary, stiamo facendo tutti una serie di saluti e anche salutiamo il tuo compagno che ormai è fan di Mary e che ti ha piegato anche i gatti con la tecnica di Mary. Esattamente. Passiamo ai prossimi sudditi di sua maestà e ultimi perché poi ascolteremo qualcuno di non inglese e abbiamo gli Smiths. Big Mouth Strikes Again. Ed erano gli Smiths. Tra l'altro, altro concerto che abbiamo visto insieme è quello di Morrissey. Sì, sì, bellissimo. Eh, noi abbiamo reiterato per tutta la puntata ma non abbiamo raccontato come ci siamo conosciute. Sì, in realtà io e Carlotta abbiamo lavorato insieme perché io ho cominciato la mia attività di consulente d'immagine nel 2012 ma prima lavoravo in un'azienda moda dove lavorava anche Carlotta e così ci siamo conosciute. Ed è stato amore a prima vista. E anche a primo suono perché in verità in quelle mense grigione delle aziende, eravamo in un'azienda moda ma sempre Veneto è e quindi ci raccontavamo i concerti che desideravamo andare a vedere oppure lei ascoltava la musica e io diciamo bella questa e così abbiamo attaccato bottone. Eh già, è proprio vero. E beh, visto che è anche una puntata, beh, prima di tutto ti direi, immagino che i nostri ascoltatori si siano molto incuriositi quindi se vogliono avere più informazioni su di te dove ti possono trovare? Allora, mi possono trovare un po' ovunque, il sito è www.annaturcato.com e poi ho l'account Instagram, poi ho la pagina Facebook, poi ho anche un gruppo su Facebook che si chiama La Posta dello Stile dove le donne si possono confrontare tra loro senza quei brutti giudizi in cui tu posti un abito su Facebook e la gente comincia a dirti stai malissimo, noi lo prenderei verde, invece nella posta siamo tutte amiche e poi basta scrivere su Google Anna Turchato e trovate anche l'articolo di Cosmopolitan che è in edicola questo mese in cui si parla di me. Fantastico, quante vedi da, quanta strada hai fatto da quando facevamo pranzo insieme in azienda e beh, allora io vi ricordo, visto che siamo in fase di contatti, i nostri contatti cioè Bassano Generation, chioccioloutmail.com oppure Bassano Generation sia su Facebook che su Instagram e finiamo con una dedica. Molto speciale, mi sento un po' posta del cuore in questo momento e sappiate che a Bassano Generation c'è un progetto posta del cuore che prima o poi prenderà. Amo, amo tantissimo. La posta del cuore in questo caso è una dedica a Diana, a suo marito Massimiliano. Amerà tantissimo conoscendolo questa cosa, lui che non si vergogna per niente. Si divertirebbe un sacco, una volta dobbiamo invitarla con noi in radio. Sì, sì, sì. E questa canzone che appunto Carlotta sta cercando di introdurre è una canzone del mio musicista preferito che è Franco Battiato, è la canzone E ti vengo a cercare che è la nostra canzone, la mia e di mio marito e quindi eccezionalmente gliela dedico. E quindi tanto amore, ciao a tutti da Carlotta, ciao a tutti da Mauro e grazie mille Anna per essere stata con noi. Grazie, ciao!